Il banchetto di Antonio e Cleopatra Il banchetto tra i due amanti, rappresentato in modo sfarzoso e con molta opulenza, dato che infatti il tiepolo si ricollega ad esempio alla cena in casa Levi del Veronese. Egli sfonda immaginariamente una parete e introduce alla scena, all'affresco quindi, con un arco a tutto sesto sorretto da delle colonne a fusto liscio e da dei pilastri scanalati. Tutto ovviamente dipinto attraverso l'utilizzo del quadraturismo, ovvero la riproduzione di architetture ma solo dipingendole attraverso l'uso di strumenti e con l'aiuto di Mangozzi Colonna. Nella raffigurazione si possono notare i due amanti che si trovano ai lati opposti di un tavolo e vi sono anche altri personaggi, come ad esempio il nano di corte che sale i quattro scalini che precedono il tavolo, oppure i servitori di colore di Cleopatra. Inoltre si può notare come vi siano due punti di fuga, uno relativo ai quattro gradini che si trova più o meno all'altezza dello sguardo dell'osservatore, mentre un altro, che è relativo alle architetture retrostanti, si trova molto più in basso, creando quindi un effetto visivo del sotto in su che aumenta la teatralità dell'opera. Si può notare inoltre come Cleopatra stia compiendo un gesto particolare, ovvero stia immergendo una perla nel vino al fine di impreziosirlo, e sia qui il prototipo della donna della dama settecentesca. Infatti, essa, come gli altri personaggi, a parte un ufficiale che è vestito con la tipica armatura romana, portano tutti dei festiti attualizzati, ovvero dell'epoca di Giomattista Tiepolo. Inoltre, vi è un'atmosfera luminosa data dall'accostamento, dalla giusta posizione dei colori complementari, che, secondo lo schema pittorico tipico del veronese, dovrebbero teoricamente dare il bianco se sommati, e quindi il Tiepolo utilizza un accostamento di questi colori complementari al fine di creare un effetto di lucentezza. Inoltre, nella raffigurazione, vi sono, poco più indietro dei commensali, dei suonatori che suonano al di sotto di una cupola, e qui è importante evidenziare l'elemento acustico conferito da questa cupola.